Memorie e tradizioni Liguri del 1800 Nell'ottocento le colline di Nervi erano popolati da numerosi castagni e le persone in cerca di lavoro e cibo decisero di trasferirsi lì Nella zona del torrente Nervi vi erano diversi piccoli molini a conduzione familiare Usati per la macina di grana e castagne I mugnaio erano persone benestanti, alcune anche nobili Una parte della farina prodotta la vendevano e l'altra era per i contadini C'era anche un mugnaio sacerdote di nome Pre Isidoro Che dopo la messa del mattino si recava al suo mulino aspettando le briccole cariche di castagne seccate I contadini costruivano terrazzamenti, tenevano puliti i boschi Innestavano nuovi alberi e con tutta la famiglia raccoglievano le castagne Le castagne erano il pane dell'albero Venivano consumate, bollite, arrostite e la farina veniva usata per fare la poletta Le castagne venivano fatte seccare per un mese su appositi gratuzzi E poi venivano portate al mulino per la macina L'acqua del torrente azionava la ruota del mulino Che a sua volta muoveva i ingranaggi con le abbiate e la macina Durante il periodo di riposo dalla raccolta le famiglie contadine si riunivano Per conversare, cucire, giocare e cantare canzoni popolari Con la costruzione delle fabbriche i castagnetti vennero abbandonati Perché i contadini si trasferirono in città per lavorare nell'industria Oggi rimangono i terrazzamenti abbandonati I ruderi dei mulini e pochissimi alberi di castagne E' un pochissimi alberi di castagne